Bene ma siamo di nuovo finiti in un solo blocco ma non è possibile Ma come Steph non è bastato una volta pure la seconda ma dai Ci tocca di nuovo sopravvivere però questa volta Ferro ha notato che c'è un isolotto lontanissimo da noi Che potrebbe essere comodo perché se vedo bene è fatto di bone block Quindi teoricamente bone meal per fare un pochettino le piantagioni più facilmente E io Steph vedo un'altra cosa Già Non siamo soli Già questa volta Non siamo soli stavolta Hanno deciso di ospitare anche Lion e Anne E ragazzi come va io sono Ferro e Niki E sono Steph che sta giocando Minecraft E siamo di nuovo qui sopra prontissimi a sopravvivere in un blocco solo Steph Esattamente però questa volta siamo in compagnia Non so se sarà positivo però siamo in compagnia Abbiamo un obiettivo davvero particolare Dobbiamo riuscire a creare una torta Che bello Questo sì che è un bello obiettivo Per una volta abbiamo un bello obiettivo Steph Non so bene perché dovremmo pensare a creare una torta Perché si pensa sempre alle torte Steph Però dobbiamo farlo Per farlo come vedi ci sono appena arrivati tantissimi materiali E quindi questo è il nostro obiettivo Ferro Però ti vorrei far subito notare una cosa Non abbiamo proprio tutte le cose che ci servono Quindi secondo me avremo bisogno del loro aiuto prima o poi Sì dimmi Sto notando guardando il tuo schermo che abbiamo anche dei materiali diversi Tu che cos'hai? Elencami un attimino quello che hai tu Allora tre blocchi di terra Ok Nove blocchi di iron Ok E due mucche Ok Due uovo ovviamente di mucca Allora Aspetta sto già ragionando Ferro Ok ragiona Io farei così Ci espandiamo leggermente di più Ok sì Ok Per non stare troppo stretti Va bene Dopodiché metterei un blocco di terra Ok Ok dove vuoi tu E mettiamo il primo alberello a crescere Ok Perché abbiamo assolutamente bisogno Come potete vedere noi non abbiamo i materiali per farci un cobblestone generator Quindi questa volta abbiamo bisogno di farmare tantissimo tramite gli alberelli se vogliamo avere più materiali Se abbiamo fortuna ne sprechiamo poca Vai Uno Due Tre Che cavolo Perché Quattro Cinque Ok vabbè Tutta Proprio tutta ce la doveva finire Tutta eh Questo è perché hai parlato Perché inizi a dire se abbiamo fortuna Se non abbiamo fortuna Devi sta zitto Almeno è un bell'alberone Fai vedere Aspetta Guarda È un bell'albero Non c'è nulla da dire Questo è un signor albero Chi lo raccoglie Stef Per non far cadere tutto Sai quanto è importante Perché non abbiamo nemmeno un stapling in più Non so Quindi non possiamo farne cadere Bene speriamo bene Allora inizio a rompere un pochettino di legna Ok vai vai Anzi dammi una mano va che tanto ci mettiamo due ore e mezzo No È noioso Stef Darti una mano Ma perché te devo dare sempre una mano Taglia quella legna Io voglio direttamente la torta Quindi io sto qui ferma e tu mi devi fare la torta È la cosa più bella Questo è l'episodio più bello che noi abbiamo mai fatto Io sono molto felice Stef Quando si parla di torti Sono sempre molto felice Dimmi Non ti voglio più sentire Te lo dico Posso ridire torto un'altra volta Uffere Uff È già caduto un sapling Ah ok mi ha fatto spaventare Che cavolo ti urli È importantissimo È un urlare Ascoltami Stai in un bordo No aspetta devo fare questo legnetto Ormai l'ho iniziato Fammelo finire Stef Ok Sei ridicola saltando così Ce la faccio ce la faccio Guarda Ok Vai in un lato Quello dove ti sembra meno coperto Cerca di capire il volo Ferre lanciati per prenderli nel caso Non mi posso lanciare Sei pazzo Non voglio cadere Direi che non ne cadranno altre Eh mi sape C'è andata abbastanza bene Nel senso Ce ne siamo fatti uno E uno extra Quindi io comunque sono parzialmente soddisfatto Ok Allora A questo punto Mettimi un altro blocco di terra Abbastanza distante Tipo io lo metterò qui Per metterlo il più lontano possibile Aspetta che devo andare lì nell'angolo Vai Ferre Attenta a non cadere Che potresti scivolare Ce la faccio Ce la faccio Ok Mettiamo subito a crescere anche questo Perché penso che dovremmo aspettare tanto tempo E trasformiamo la nostra legna Ok Perfetto Ti do anche la mia Fai tutto tu No Ferre Fatela da sola Io non faccio nulla per te Piuttosto creo la crafting table Allora quella te la creo Questa qui Ok E visto che ci siamo Iniziamo a creare anche la fornace Perfetto Così teoricamente Quando avremo molto legno Perché per ora non possiamo sprecarne Mettiamo anche a bruciare il legno Per poter poi appunto fare il nove lingotti Per fare i tre secchielli Per poter prendere Il latte Il latte dalle mucche Le mucche ce le tu? Sì ma non le abbiamo ancora messe Beh Ferre Sono ancora uova Non c'è spazio manco per noi Figurati se voglio delle mucche nella nostra isola Siamo ancora troppo piccolini Abbiamo bisogno di espanderci tanto E poi avremo le mucche Quindi balla Ferre Balla sugli alberi Fanne crescere uno Ti prego Ma non funziona Stef Lo so Mi hai già detto che non funziona E l'altra volta E l'altra volta ho criticato i miei balletti Però ballo lo stesso Sono disperato oggi Sì Sì Continua a fare Prima o poi qualcosa succede Magari piove Magari piove Non lo so Salve Ciao Guardate Guardate Colleghi lontani Eh sì È molto piccolo È compatto Hai visto? Vi stavamo osservando infatti Dovrei imparare da voi A voi come va la questione? Abbastanza bene Però abbiamo notato Allora Vi spiego un pochettino Alla nostra storia Siamo in quest'isola Ci è venuta voglia di mangiare una torta Anche a noi Eh beh Perché queste nuvole ricordano un po' le torte Lo sai Anna Che torta vuole fare? Che torta vuole fare? La torta a paradiso perché siamo in mezzo alle nuvole Oh bello Mamma mia La volevo uccidere Poi però ho deciso di no Non è vero Ha senso Io l'ho preso Ha ragione Anna E poi mi piace il Kinder Paradiso Allora vi dico un po' che cosa abbiamo noi Ok cosa avete? Noi abbiamo Allora per ora ancora poco e niente Ok Però stiamo per fare I polli Quindi l'uovo per la torta Ok perfetto E lo zucchero E lo zucchero Perfetto Entrambe le cose ci mancano Noi invece abbiamo le mucche per prendere il latte Che è importantissimo Ok E poi abbiamo anche il grano Abbiamo anche i secchi Sì però dobbiamo fare un po' un lavoraccio noi E te lo dico Ok 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 Perché dobbiamo fare tutto un patatrack per avere quei secchi Però Va bene Ce la faremo mio collega Ma questi alberi almeno crescono quelli alti Allora Ti devo dire la mia preoccupazione in questo momento Dimmi Possono cadere tanti saplings dalla parte destra E non vorrei investire i nostri dodici di legna Per evitare che cada questa legna Allora ne ho dodici anche io Ah Sì perché ho raccolto anche io la legna E tu mi hai detto Fatela da sola Io me la sono fatta da sola Mi hai detto proprio con questa voce Sì è vero è vero Raccoltatelo tutti che me l'ha detto con questa voce No no confermo Mi ricordo anche io Mi sono Ecco bene Se vuoi usiamo le mie Non lo so Dai usiamola Allora aspetta 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 E sei in grado di fare una mini piattaforma? No Vai a farla allora No falla tu Facci vedere Verso destra Stai Sì dimmi No no Dai ti prego Non so neanche qual è la destra Qual è la destra Steph? Verso qui devi espanderti Ok Devi coprire più foglie possibili verso lì Ok Va bene Vai Fere You can do this Crediamo in te Fere no Da uno non da due No da due Va beh vai fai da due Mi hai già fatto sbagliare Mi stai facendo bene l'ansia Steph Questa me la prendo io Ne è crescita anche un altro Oh che bella giornata Allora ok Io inizio a bucarellare tutto Fere Perché abbiamo bisogno di questa legna È fondamentale Perché siamo messi ancora male Per fare la nostra torta Sì Non abbiamo lo spazio per mettere le mucche Non abbiamo abbastanza blocchi Per arrivare fino al posto di Bonmiel Per accelerare un po' tutto il processo Sì Sì Ma poi noi dobbiamo fare anche il recinto Per le mucche Altrimenti cascano di sotto Quindi serve legna anche per fare il recinto Lo so Il cancello Tutte queste cose Lo so Fere Dobbiamo muoverci Credo di avere abbastanza blocchi Per poter raggiungere quell'isolotto di Bonmiel block Ok Sì Puoi provare? Io vado a provare a prenderlo Sai quanto ci velocizzerebbe Comunque Non appena finisci di prendere quelle foglie Metti abbastanza distante da quei due alberelli Il terzo alberello Così ne mettiamo tre a fare Prendiamo tutta quella legna E poi iniziamo a utilizzare i tre blocchi di terra Per fare appunto il grano Perché abbiamo bisogno anche del grano Per le mucche eccetera eccetera Fere va bene? Ovviamente Mi raccomando Devevo fare un bel lavoro Qua se no la torta la prepariamo tra sei anni Sì e non la mangeremo mai Io ho un po' di fame Cioè a me stavendo voglia di mangiarmela Sì a pure di parlarne Te la stai già immaginando Ma è un buon lavoro qui Giusto giusto Ci arrivo a fare 40 blocchi di distanza praticamente È abbastanza lontano Allora Vediamo Ti avviso appena arrivo Dovrei essere anche abbastanza sotto Quindi dovrebbe essere comodo Da prendere Me l'ho dimenticato che mi serviva il piccone Come sempre ti dimentico qualcosa Steph Il primo l'ho perso No dai Steph ti prego Te lo giuro Non so bene perché Non mi sembra equa questa cosa Ma prenditi altri blocchi E fai una piattaforma sotto E insomma è quello che volevo fare Ma dovevo per forza togliere quello per primo Ce l'ho totalmente attaccato Non mi sarebbe mai dovuto cadere E invece è caduto Ci prendiamo questo blocco Ok Questo è impossibile che cada Ci prendiamo anche questo Ok E torno a casa per adesso Con tre blocchi Di bonn Fede Quindi possiamo fare Se ricordo bene 27 di bonn Una roba del genere Non mi ricordo di preciso Però 27 di bonn Però ho la memoria Fede Guardami eh 1 2 3 4 Ok 1 2 3 4 5 Ok Vai 1 Oh Bello questo Cos'è l'improvviso Aspetta Aspetta Guardate i nostri alberi Che belli Siete invidiosi Guardate qua Guardate qua È bellissimo Non mi piacciono Non ti piacciono Sai cos'è che ogni volta Io mi sento in lotta Però in realtà stavolta Siamo alleati Esatto È solo lui Vieni qua Esatto È antipatico In realtà vi devo essere sincero Mi servirebbe un po' di pietra Prima o poi Quindi se riuscite a fare un piccolo ponticello Per venire magari E cosa offri in cambio? E qualche pezzetto di bonn Mial se vi può servire Noi siamo già arrivati all'isola E ne abbiamo in abundanza Speravo che non ci fossero arrivati Fere Eh sì 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 Quals'altro hai da offrire? Un piccone in legno Sei ridotto lo Steph Sei ridotto Sì sei molto ridotto Basta dai Ho un'idea io Sentiamo Allora Noi dobbiamo fare una torta Come tu ben sai Sì certo La torta è composta da Quattro grosse fette Ok Noi in tre Voi una Allora tu rinuncia alla pezza Ci penseremo Tu rinunci Ne riparliamo fra un po' Io la mangio No no ci pensiamo più avanti Non voglio prendere una decisione Così importante Così in fretta Ma è lui che non accetta Fredditela solo con lui Ma se fosse la tua fretta Non accetteresti mai Quindi Ma perché è ovvio che è la tua Sei uno scarsone Mi stai provocando Certo che è la tua Scusami Me ne vado Arrivederci Io inizio a bruciare un pochettino Per fare carbonella Per poi fare appunto I nuovi lingotti Così iniziamo a fare i secchi Ok io inizio Perché tu stai iniziando a fare La piattaforma per le mucche Giusto? Anche il recinto Lo inizio a fare Così poi le mettiamo Ok Ok vai Fere Mi raccomando Fai un buon lavoro Voglio essere partecipe Della loro nascita Si partecipe Della loro nascita Uno e due E anche Fere Che bello In mezzo alle mucche Ciao Guarda come vi guardano Guarda Mi amano No stanno chiedendo Ma che ci fa questo Lo vuoi un albero? Non voglio alberi Dammi grano Aspetta come faccio a uscire Senza farle scappare Vai Fere 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 Qua sta succedendo qualcosa Qua sta succedendo qualcosa Lion si sta vicinando a noi Scusate Cosa vorreste qui? Non vi abbiamo ospitato Tu mi hai invitato Allora No 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 Aspetta Oggi è pazzo Lion Scusa L'ho pazzo Io ho detto che ci avrebbe fatto comodo un po' di pietra Ti è caduto un sapling comunque Eh pazienza Ne abbiamo da vendere Quindi non mi interessa molto Ok Ok Io ho detto che mi interessava Ma tu mi hai chiesto la mia fetta di torta Sì Io non ho deciso di dartela Ah beh io sto venendo per chiedere Ok Da vicino Se me la vuoi dare Si vuole avvicinare Si vuole avvicinare Io potrei darle una spinta per sbaglio Spero che non accada No Smettila No Guardi Ti ammazzo Ti invado Vedi non si può collaborare Ti invado Ti invado Ti rubo il latte E scavo Aspetta che scavo un attimo quel blocco Fammi vedere un po' Che sporco Ma dimmi te questo mascalzone che vuole venire nella nostra isola Allora Fere Sono riuscito a fare i nove lingotti Ok Quindi adesso andiamo a creare i nostri stechielli Perché ci servono tre stechielli di latte Giusto? Ti ricordo bene Eh sì Tu sei in aspetta di torte Te le prepari sempre Quindi io chiedo a te per sicurezza Allora mucchettine Ci serve un po' di latte Collaborate con noi Una Ok Fere ma noi non abbiamo neanche una ceste Ma ti rendi conto? Lo so Palla dai Non facciamo i poveracci Ormai con la legna andiamo bene Ok Aspetta che la creo Guarda Sto sculettando Mi vorrei tirare una freccia che non ho Ok Allora Fere Devo provare a recuperare i blocchi di terra Vai Vuoi sapere come farò? Allora vuoi sapere? No 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 È una missione difficile eh Cosa vuoi fare con quel stechiello? Aspetta No 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 Buttare l'acqua Organizzati prima E devo fare così È l'unico modo Io vado Fere C'è l'unico modo? James Bond Morirò eh Lo sai vero? Che persona vergognosa Ok Ok Sta funzionando Fere Ok A questo punto ne devo Quindi adesso lo posso raccogliere giusto? L'hai tappato Posso raccogliere? Quello sì Ok Però poi ce ne mancano altri due Vabbè io per ora prendo questo Ok Ha funzionato no? Sì È stata una buona tattica Ok ecco ecco Sono stato un bravo giocatore di Minecraft No? Più o meno Più o meno Mi vuoi fare un applauso? No No Non c'è bisogno Dai Eccoci qua Steph Messi Ok Adesso possiamo anche togliere questo Così inizia ad essere bagnato il nostro bellissimo terriccio Ok adesso dobbiamo zappare Quindi ci facciamolo eh Ok Non abbiamo più bastoncini Fai l'attento a Lion eh Controllalo Ci sta tirando un uova Ti ha tirato un uova addosso E poi tu mi dici che lui è pacifico Certo perché l'hai provocato prima tu Si sta vendicando Vare non giustificarlo Se uno si dà la mia parte Guarda il latte c'è ancora Quindi non ha toccato nulla Ok Uno Due Tre Pianta Ho io i tre semini Sì Uno Due Tre E guarda adesso con i bulmial che abbiamo Pa 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 Non riesco a capire se sono pronti Questo no Ok adesso sì Uno Due E tre Uno non era pronto Steph mi sa No no Ferre non sono pronti tutti Ti ha ridato un semino Uno Due Tre Per abbiamo nove di grano E tu direi perché ne hai preso nove Non ci serve nove Beh perché per dare da mangiare alle mucche Beh per ringraziare le latte Guarda la nel cielo mucche Noi vi amiamo Oh salve Benvenuto di famiglia Allora Sì Per la nostra torta No mettiamola a parte Il fatto che prima ti ho fatto vedere il sedere E ti ho lanciato È stato bellissimo Sono un po' arrabbiato No no La torta ti farà passare Allora Abbiamo tutto Sì Anche l'uovo Però C'è quella maledetta canna da zucchero Che non ne vuole sapere di crescere un'altra volta Ok E quindi Praticamente mi stai dicendo che noi abbiamo tutto pronto No Eh non è colpa mia Madre natura eh Quella là non vuole mai che ti mangi le torte Non so Io magari penso che dovremmo prendere il 60% della torta Ferre E tu che dici? Ma andiamo coi picconi eh Andiamo coi picconi eh Ci stanno facendo aspettare Ferre io Secondo me Una penitenza La vera è la canna da zucchero Non è che puoi pretendere che cresce Quando cresce cresce Non siete bravi coltivatori Mi spiace Ma come? Ma che dice La canna da zucchero Il nostro grano è pronto Quindi non vorrei dire Ma grano non ci vuole niente a farlo crescere Ah pure Cioè insulta pure il nostro lavoro Sai quanto è stato difficile creare la famigliola di mucche Guarda come sono felici È cresciuta È cresciuta Oh finalmente Evviva Bello 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 Fatevi da parte È roba mia Lo zucchero mi piace moltissimo Allora Con queste due Mi piace moltissimo Lavorandole abbiamo tre di questa polvere dolcissima Oh yes E messa insieme A tutti i vari ingredienti Potremo avere la nostra torta Perché abbiamo tre zucchero Ok Tre di grano ce l'avete? Sì Ne abbiamo sette Ti prometto che la farò al meglio delle mie possibilità Tieni Ok Tieni Considerando che non so cucinare Secondo me è un gran problema Ma anche secondo me Infatti volevo farla fare Anna Che è l'unica che sa cucinare Eh Esatto Pensate a tutta questa fatica E per la torta fa pure schifo Vado di fantasia ragazzi Allora non era così Quindi mi sa che il grano era sotto Io se vuoi lo so Te lo dico Ti do istruzioni No no Ci devo arrivare da solo Neanche la ricetta si ricorda Il latte è sopra Sono abbastanza sicuro Sì è sopra È giusto È venuta È venuta Guardate Eh sì la metti la metti là Guardate qua La mettiamo qui Mamma mia È addolce Che bella Però adesso c'è un piccolo problema Ok Cosa Qualcuno di voi ha fame? Eh no No Io sì Buon appetito Ma come? Non è giusto Ma non è giusto Scusate Ciao Perché se ci si esiste Lasciateci un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.